Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, si è appena concluso il Tata Steel Chess Rapid India con la vittoria del 18enne giovanissimo e ma già fortissimo grande maestro Nihal Sarin e la vediamo subito questa fantastica partita contro il famosissimo grande maestro Mamedyarov ma se non l'hai ancora fatto ti chiedo di iscrivervi al canale YouTube cliccando qui sotto e attivando la campanella così che non ti perderai nessun video del canale YouTube Scacchista Matto D4 giochiamo a Mamedyarov, D5, C4, D per C4, quindi gambetto di donna accettato da parte di Nihal Sarin cavallo F3, cavallo F6, E3, E6, fin qui tutto normale, alfiere per C4 quindi si riprende subito il pedone il gambetto di donna non è un gambetto di quelli aggressivi ma il pedone si può riprendere subito senza problemi e la posizione è abbastanza pari C5, guardate qui, subito spinta di rottura, spinta assolutamente corretta in modo tale da infastidire il centro del bianco non bisogna permettere al bianco di avere un centro solido e tranquillo, bisogna sempre attaccarlo prima o dopo qui in questo caso Sarin sceglie di attaccarlo subito, si può anche prima magari arroccare su quei pezzi e poi contraattaccare l'importante è che si effettua una spinta di rottura A6, B3, cavallo D7, alfiere B2, alfiere N7, si completa quindi lo sviluppo rimane solo l'alfiere in B7, quindi B6 qui B5 non è il massimo giocarla subito perché probabilmente alfiere D3, alfiere B7, A4 è un po' magari fastidiosa anche se in realtà si poteva anche giocare, non è persa forse poi rientriamo anche nella partita, quindi andiamo avanti perché mi sa che poi la partita mi sembra siata simile quindi B6, E4, alfiere B7, E5, cavallo in D5, torre in E1, arrocco, cavallo E4, B5 eccoci qui, alla fine B5 sarà giocata quindi cambia poco gioco anche alfiere D3 e ci fermiamo un attimo per analizzare questa posizione perché siamo partiti da un gambetto di donna accettato ma se guardate attentamente in realtà questa posizione è uguale alla posizione che derivano dalla semislava infatti la sottoprenale è la stessa, vi è il primo in E6 il pedone che prima magari era in C6 con la semislava e se lo spinto in C5 ho già effettuato diversi video spiegando questa difesa magari vi metto anche alla fine del video in sua impressione il video sulla semislava in 10 minuti perché è un'apertura molto molto interessante da giocare da nero e vi ho sempre spiegato che in questa apertura, in questa difesa bisogna effettuare una di due spinte di rotture o C5 o E5 qui il nero è riuscito già a effettuare C5 infatti la posizione è assolutamente pari perché il nero non sta subendo un attacco alla parte del bianco ok, il bianco ha un leggero managgio di spazio dovuto al fatto che ha un pedone avanzato in quinta traversa e un cavallo al centro in E4 però la posizione è assolutamente pari e allora vediamo quali sono i piani dei rispettivi colori il nero deve cercare di attivare le sue torri quindi già piazza la torre in C8 l'altra torre dovrà andare in D8 e quindi sfruttare queste colonne che inevitabilmente prima o poi si apriranno il nero quando vuole può catturare e aprire le colonne C e D in un sol colpo successivamente dovrà ovviamente migliorare la posizione dei pezzi quindi magari il cavallo troverà una casa migliore per esempio dopo la cattura si libera la casa C5 mentre gli alfieri attualmente stanno bene anche il cavallo in D5 solo il colonne D7 io migliorerei per ora il bianco più o meno deve fare la stessa cosa cioè le colonne C e D devono essere conquistate assolutamente prima possibile e poi potrebbe anche pensare ad un attacco nel lato di Re perché già l'alfiere è pronto i cavalli potrebbero saltare la regina può arrivare un attacco ovviamente con i pezzi non con i pedoni sarebbe troppo lento questo attacco però è difficile da effettuare bisogna capire se effettivamente il nero lo consente attualmente con questo controllo sulla casa G5 la parte del nero è praticamente impossibile torre C1 si apre con C per D le colonne C e D donna per alfiere D4 donna C7 alfiere B1 torre in D8 notiamo che la torre quindi si piazza nella colonna D la regina è già nella colonna C e quindi il nero ha già conquistato le due colonne G3 G3 forse non è il massimo probabilmente Mamederov avrà paura di cavallo F4 vi dava parecchio fastidio e quindi vuole evitarla qui poteva anche pensare magari ad un serificio di pedone con cavallo D6 con l'idea che su alfiere per pedone per donna per D6 qui l'attacco potrebbe essere veramente interessante perché ha anche eliminato i pezzi a controllo la controllo della casa G5 quindi qua sì secondo me qualcosina c'è per esempio forse c'è subito un serificio alfiere per H7 re per H7 cavallo G5 scacco e qui è qui è tosta la posizione per il nero perché rischia molto se fa re G8 arrivato ad un H5 questo è un classico serificio su H7 con poi attacco con cavallo e regina e qua c'è minaccia di matto in 2 qui il nero non ha una bella posizione ovviamente si può salvare banalmente con rene F8 perché tanto già aveva un peore di vantaggio e quindi ora la posizione torna pari però col D6 era certamente la mossa migliore qui è una partita semilampo quindi non è facile vedere anche se i giocatori sono super grandi maestri e non avendo tantissimo tempo di disposizione magari non è stata vista G3 H6 e qui secondo me Sarin ni al Sarin se ne era accorto quindi gioca a H6 donnine 2 cavallo in F8 come dicevo questo cavallo bisogna migliorarlo e Sarin decide di portarlo in F8 mi chiedo se in C5 è proprio impossibile sì probabilmente è arrivato in C1 e quindi il bianco qui ha la meglio perché inchioda questo cavallo e alla prossima può anche minacciare eventuali A3 e B4 quindi cavallo in F8 perché cavallo in F8 è buona? perché la torre vuole conquistare la colonna D quindi questo cavallo è un po' di intralcio torre in D1 e qui torre in D7 questa è una bella manovra giustamente Niel Sarin pensa che deve raddoppiare deve portare la torre in D7 e la regina in D8 solo in questo modo avrà completo controllo della colonna D se no la colonna sarà comunque controllata anche dal bianco quindi vi sarà una lotta continua nella colonna D3 il bianco e il neaco mentre con il raddoppio il bianco potrebbe entrare in crisi e infatti H4 donna D8 torre D2 il bianco prova a fare lo stesso e sta cercando di di raddoppiare quindi gioiai con donna D1 e quindi raddoppiare anch'esso però è troppo tardi alfiere in B4 alfiere in B4 l'alfiere attacca la torre quindi non dà il tempo al bianco di giocare donna D1 e qua arriva l'errore più grave della partita da parte del bianco torre in C2 sposta la torre nella colonna C prima di far vedere come il nero approfitta di questo errore voglio far vedere cosa avrebbe dovuto giocare perché non è comunque semplice qui per il bianco anzi il nero secondo me qui ha già un vantaggio posizionale considerevole e infatti su torre D1 vi è una bellissima mossa se vi va giusto per allenarvi potete mettere pausa il video e cercare qui la mossa migliore da parte del nero la mossa è cavallo in C3 molto bella perché? perché sfrutta le inchiodature questo alfiere non può catturare il cavallo perché cade la torre in D1 si può catturare il cavallo in C3 con il cavallo in E4 direi che è l'unica mossa perché se no qui il cavallo sta attaccando torre e regina quindi il cavallo per C3 si può giocare però a questo punto il nero può semplificare tutto andando in vantaggio di un pedone perché donna per torre per torre per donna per si attacca il cavallo e stacca il pedone non si può difendere entrambi si toglie il cavallo e il nero vince un pedone perché è successo questo? quindi perché viene alla fine la tattica in soccorso? perché il nero è in vantaggio posizionale quindi è importante conoscere la strategia e i vari piani perché nel momento in cui voi avete il controllo della partita è in quel momento che ci saranno combinazioni tattiche il nero ha il completo controllo della corona D ha posizionato tutti i pezzi a meraviglia l'alfiere sulla decona le grande l'alfiere scuro è anche molto attivo il cavallo al centro e allora ora arriva la tattica con cavallo in C3 stessa cosa avviene con l'errore torre in C2 quindi torre in C2 viene punita come cavallo in E7 cavallo in E7 che si minaccia si minaccia torre per D4 con l'idea quindi di catturare due pezzi per la torre quindi andando in vantaggio perché i due pezzi vanno con i più della torre A3 alfiere per A3 torre in D2 quindi il bianco provisce sacrificare un pedone per difendere l'alfiere alfiere B4 torre in D3 a questo punto capisce che torre C2 non andava e deve rimanere nella corona D ma è ormai tardi cavallo F5 si attacca l'alfiere alfiere in B2 torre per D3 alfiere per D3 don D5 ora si sfrutta la forza della diagonale A8 H1 controllata dal nero si crea una batteria fortissima tra alfiere e regina che è praticamente incontrastabile infatti dopo alfiere C2 cavallo in D7 G4 si porta anche il cavallo all'attacco come sempre quando stai attaccando dovete portare tutti i pezzi all'attacco il cavallo in F8 non sta partecipando all'attacco e allora si pensa a portarlo anche lasciando il cavallo F5 in presa non è un problema infatti dopo G per F5 la partita si conclude con cavallo per cavallo pedone per E6 perché pedone per E6 perché qui se il bianco cattura in E4 banalmente la partita è vinta per cosa si attacca cavallo e pedone cavallo in D4 pedone per F5 con due pedone di vantaggio ovviamente e coppia di alfieri il finale stravinto quindi non non alfieri per E4 ma F3 viene comunque vinta questa partita come con cavallo in D2 bellissima mossa perché questo cavallo è inchiodato vi è il matto in G2 e a questo punto sono problemi perché il bianco non può catturare il cavallo ma non può neanche difenderlo qui mossa della disperazione si dà uno scacco a re col pedone ma dopo re in F8 la partita è finita e Mamedorf dà la mano a Nialzarin e abbandona secondo me è una bellissima partita ma vi chiedo nei commenti che ne pensate se avete visto queste sue tattiche se vi è capitato di giocare questa apertura comunque questo setup perché alla fine la semislava c'è il gambetto non accettato e rientrato nella semislava quindi abbiamo visto che diverse difese si possono anche incontrare nelle stesse posizioni lasciate un like se vi piacciono il video e vi lascio qui dei video intro e impressioni per te sulla semislava come vi anticipavo prima alla prossima ciao ciao